Buongiorno a tutti, Roberto Pudu, agente immobiliare Remax. E si conclude con questo fantastico fine settimana, una settimana davvero produttiva. Tre immobili messi in vendita, un locale commerciale, una casa veramente deliziosa Cagliari e due proposte. Che dire, è stata veramente una settimana intensa, ma adesso inizia un piccolo momento di riposo per riniziare la prossima settimana davvero carichi. A voi tutti, buon mare in questa purtroppo giornata di sole, non sole, ma chi se ne frega. L'importante è prenderci le ultime pillole d'estate. Posso vendere anche la tua!